Il manifesto delle start-up, progetto delle associazioni e degli enti iscritti alla consulta regionale dei giovani, è stato presentato al Politecnico di Torino. Obiettivo? Raccogliere idee e linee di indirizzo per una legge regionale proposta dai giovani start-upper, al fine di trasformare il Piemonte in un polo attrattivo per la nuova imprenditoria delle idee.